Buongiorno, è cominciato il nostro viaggio verso il Vieto, siamo sul pulmon, ci porterà il treno, ci porterà tutto al Vieto, arriviamo alle 13.40 previsto l'arrivo, e poi a niente, vi lascio il video. Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!